E 5 Stelle chiedono che si torni al voto, no a governi di transizione, Salvini attaccano e tenuto al guinzaglio da Berlusconi. Claudia Mazzola. Riunito con i suoi, Di Maio studia le prossime mosse. L'unica strada è andare al voto, i vertici 5 Stelle ne sono convinti. Abbiamo cercato di fare una cosa rivoluzionaria, dice Toninelli, ma dall'altra parte abbiamo avuto i soliti vecchi partiti. L'M5S cambia lo schema di gioco, torna ad interpretare il ruolo di opposizione, un ruolo obbligato dalla mancanza di lealtà dei dem e della Lega, secondo la versione che Di Maio dà in una lunga lettera inviata a tutti i parlamentari. Salvini e Renzi scrive si sono sentiti in tutti questi giorni e centrodestra e PD si sono coalizzati contro di noi, quindi l'accusa sono loro quelli attaccati alle poltrone, l'unico corretto, sottolinea il presidente Mattarella. Abbiamo fatto di tutto per dare all'Italia un governo di cambiamento. Per 60 giorni abbiamo proposto un contratto in cui si mantenevano le promesse che si scrivevano, ma evidentemente per i vecchi partiti mantenere le promesse è stato impossibile. Ora è scontato che la parola debba tornare agli italiani con il voto e dare veramente una possibilità di cambiamento. E continua il match a distanza con Salvini. Prestiti e Fidei Ussioni accusano dal partito legano a doppio mandato la Lega con Berlusconi. Anche in vista di una possibile campagna elettorale Di Maio torna a spingere sui temi, avanti con la battaglia sui vitalizi, ma serve tempo, mentre il ritorno al voto, se non fosse immediato, aprirebbe il problema del doppio mandato.